Il giardino segreto. Chiudi gli occhi e avanza su un bel sentiero. Al termine del sentiero c'è un cancello. Il cancello si apre su un giardino, entra e saluta il guardiano. Ora avanza verso il fondo del giardino. C'è una bambina che si dondola su un'altalena e ride, ride gioiosa. Avvicinati e domandale il segreto della sua felicità. Ascolta con attenzione e osservala. Può risponderti usando segni e simboli. Ringraziala e riprendi il giro del giardino. Ancora più in fondo trovi uno stagno. Affacciati e vedi lì il tuo riflesso. Sei tu nel futuro. Chiedi al tuo riflesso come puoi aiutarlo a vivere una vita migliore. E ora ascolta la sua risposta. Può essere chiara o anche essa fatta di segni e di simboli. Ringrazialo e salutalo. Prosegui il tuo percorso nel giardino. Ammira e apprezza i suoi colori, le piante rigogliose, i suoi fiori. Apprezza la delicatezza del loro profumo. Ti accorgi che nel giardino, con tua grande sorpresa, c'è anche un piccolo orto e un frutteto. Sei deliziata da quello che vedi e da tutto ciò che ti circonda. Il cielo è sereno, l'aria piacevolmente fresca ti accarezza il viso. Riprendi quindi il tuo cammino e vai verso l'uscita. Seduto sugli scalini c'è un vecchio che sembra aspettarti. Avvicinati e domandagli. Caro vecchio, qual è il senso della vita? Ascolta la sua risposta e fanne tesoro. Ringrazialo, salutalo e prendi congedo da questo luogo nel quale potrai tornare ogni volta che vorrai. Chiudi il cancello, torna nel momento presente, apri gli occhi. Chiudi il cancello, torna nel momento presente, apri gli occhi. Chiudi il cancello, torna nel momento presente, apri gli occhi.